La Sagra della Salsiccia I macellai organizzano l'evento allestendo gazembi e proponendo degustazioni lungo tutto il centro storico. La civiltà contadina caccamese si trasmette non solo questa prelibatezza ma anche tante altre specialità di arte culinaria che sono il risultato unico e prelibato di una cucina che si sfrutta i prodotti della natura al servizio delle menze e della gente semplice. Tantissima la gente è arrivata da tutti i paesi limitrofi che oltre alla degustazione dei prodotti tipici hanno anche scoperto il fascino e le magie del borgo medievale con il suo impetuoso castello. Grazie Grazie Grazie